Ciao, io sono Maria e questa è la cucina in 4K con Maria. Ciao a tutti! Oggi prepareremo insieme un dolce squisito, veloce, che si presenta anche bene, ma soprattutto semplicissimo da realizzare. Proprio a prova di inesperto, ideale da preparare all'ultimo minuto, specialmente quando abbiamo ospiti improvvisi a pranzo o a cena. Adesso non ci resta che metterci all'opera per preparare questo dolce con una confezione di pasta sfoglia rotonda, tre banane mature, una bustina di budino alla vaniglia, 200 millilitri di panna liquida ed infine una bustina di gelatina per torte. Partiamo subito e dopo aver sbucciato le banane, le affetto a rondelle e le metto da parte fino al momento del loro utilizzo. Stendo ed accomodo la pasta sfoglia in una tortiera dal diametro di 26 cm con la sua stessa carta forno. Aiutandomi con i rebbi di una forchetta, bucherello tutto il fondo in modo da evitare che la sfoglia si gonfi troppo in cottura. A questo punto andiamo ad aggiungere le fettine di banane e le disponiamo a raggere sul dolce cercando di coprire tutti gli spazi. Se avete domande, dubbi o qualunque altra cosa scrivete un commento sarò felice di rispondervi e come sempre per non perdervi le prossime ricette iscrivetevi al canale, attivate la campanellina e mettete un mi piace al video. Vi ringrazio di cuore in anticipo. Ripiego il bordo della torta su se stesso creando un cornicione su tutta la sua circonferenza. Ora non ci resta che preparare la crema e in una ciotola verso la bustina di budino insieme alla panna liquida e mescolo bene il tutto fino a che il composto non sarà del tutto amalgamato e privo di grumi. Verso la crema sopra le banane e con il dorso del cucchiaio la livello ed in forno a forno preriscaldato statico a 180 gradi per circa 25 minuti o comunque fino a quando la sua superficie non risulterà ben dorata. Nel mentre che la torta sta raffreddando possiamo dedicarci alla realizzazione della gelatina e dopo aver versato 3 cucchiai di zucchero e la bustina di gelatina in una casseruola do una prima mischiata con una spatola. Poi verso 250 millilitri di acqua poco per volta in modo che non si creino grumi. Dopodiché accendo il fuoco, porto il composto a bollore, lascio cuocere un minuto, spengo e poi distribuisco sull'intera superficie del dolce. Ovviamente questa è la mia ricetta, se qualcuno di voi la prepara in modo differente può farmelo sapere nei commenti, è sempre un piacere imparare cose nuove. Trasferisco la torta sopra un piatto da portata e prima di consumarla la lascio completamente raffreddare. Fatemi sapere se questo dolce vi è piaciuto e arrivati a questo punto, come al solito, se la ricetta ti è piaciuta un bel like in modo giusto per farmelo sapere assieme ad un commento. Per altre ricette iscriviti al canale e ci vediamo alla prossima. Ciao da Maria! Ciao!